Un altro video in marmolada? No, no, non serve. Tanto più che questo ventaccio freddo impigrisce la mano ad uscire dalla manopola. Ma invece sì, oggi è la prima uscita dell'anno schiatorio 23-24 e un pensiero emerge dal cervello surgelato. Cosa ci fanno i cannoni in marmolada fino a 2600 metri? Ecco solo questo per me sconvolgente. Chissà se le centinaia di persone che oggi sono scivolate qui sono rimaste turbate come me. Ma l'industria presto agonizzante dello sci ha bisogno di neve e si continuerà a farla ma sempre più in alto. E per punizione mi lascio schiaffeggiare dal cannone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.